Musica Nuovo appuntamento con Chiedi a noi, di nuovo in compagnia dell'Avvocato Giuseppe Placentino, Presidente dell'Associazione Difesa Salute. Iniziamo con un caso che è un po' come dire al limite tra questioni sanitarie e questioni legali più in generale. Quando si ha un animale domestico e questo animale aggredisce una persona, di fronte a quali problemi ci troviamo? Bisogna stare attenti in quel caso. Noi siamo 60 milioni in Italia e ci sono in Italia 45 milioni di animali di compagnia o animali di affezione. Basta tenere presente che di cani, quindi in Italia, ce ne sono 7 milioni, mentre di gatti 7 milioni e mezzo. Queste cifre fanno capire quanto è importanza sentita da parte della popolazione italiana, non solo la cura del proprio benessere psicofisico, ma anche la cura e il benessere degli animali. Quindi è un problema che Difesa Salute ha affrontato anche altre volte perché sono giunte alla nostra attenzione dei casi un po' particolari, dei casi relativi alle cautele, agli obblighi di chi ha un cane. Quindi un cane va tenuto ovviamente con la massima attenzione e cura come se fosse un membro della famiglia, anche perché ci scorrono dei rischi. E in effetti è successo che proprio un cane, un pastore tedesco di grossa taglia, e questo è il caso specifico che è stato posto all'attenzione di Difesa Salute, ha aggredito un cane di piccola taglia, mentre questo cane veniva portato al guinsaglio dal proprietario e ahimè a causa delle ferite questo piccolo cane è deceduto dopo un intervento chirurgico. Io ho qui proprio la constatazione di decesso di questo piccolo cane che è deceduto dopo un giorno da un intervento chirurgico ed è stata poi, la carcassa è stata infossata sul terreno di proprietà. Questo documento, che si chiama constatazione del decesso, è molto importante e poi dirò il motivo. Perché potrebbe consentire al proprietario del cane di piccola taglia di agire. Ma prima di entrare nello specifico, dobbiamo dire una cosa molto importante degli spettatori. Il nostro codice civile prevede un articolo che noi addetti ai lavori facciamo rientrare nell'ambito della responsabilità oggettiva. Chiunque ha un cane o un animale che provoca un danno è tenuto a risarcirlo qualora non provi il caso fortuito. Si tratta dell'articolo 2052 del codice civile, che io adesso andrò a leggere. Il proprietario di un animale o chi se ne serve, per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile per i danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. Quindi ricordatevi, addirittura il codice civile del 1942 si occupa di questo caso. Prima era più frequente, perché oltre agli animali di compagnia esistevano gli animali, per esempio gli animali nelle campagne, gli asini, i cavalli, e quindi i danni potevano essere provocati anche da quelle tipologie. Quindi il legislatore nel 1942, quando usa il termine animali, si riferisce non solo ai cani e ai gatti, ma anche in generale a altre tipologie. In questo caso, l'articolo del 2052 ha equiparato il proprietario con il detentore. Quindi noi possiamo agire, se c'è un danno, o contro il proprietario o contro il detentore. Però attenzione, non possiamo agire contro entrambi. Dobbiamo agire o contro il proprietario del cane o chi lo detiene in quel momento. E non importa se è smarrito o se è fuggito. Nel caso specifico, il pastore tedesco era sfuggito perché era rimasto aperto il cancello della villetta dove era alloggiato. E quindi per questa distrazione, questo cane pastore tedesco, forse ritenendo di voler tutelare la propria zona, questo è il ragionamento, come mi hanno spiegato i veterinari, ha aggredito il cane di piccola taglia. Il proprietario del cane, che cosa ha fatto? Ha pagato le spese veterinarie perché c'è stato un intervento chirurgico che non è andato a buon fine. E infatti, proprio qui, ho la fattura di questo centro veterinario per una cifra di 905,67 euro. Intervento chirurgico, anestesia e analgesia, terapia di visita, Rx piccola, visita di urna. Cioè, il signore, attenzione, ha pagato, queste sono le spese vive, circa 1000 euro. Però, dispiace per lui, ma è giusto che sia così, questa sua negligenza gli costerà caro. Perché con l'Associazione Difesa Salute gli abbiamo mandato una raccomandata e abbiamo chiesto il ristoro dei danni morali. Perché esistono anche quelli, come la giurisprudenza è ormai riconosciuto. Cioè, il danno per l'affetto che viene a mancare. La figlia di questo signore che portava con sé al guinzaglio il piccolo cane è rimasta male. Ha sofferto per la morte di quel cane che si chiamava Charlie. E quindi abbiamo deciso di agire anche per questo, per i danni morali che sono stati subiti. Quindi, ricordatevi voi proprietari o detendori dei cari, dovete usare la massima cautela. Esiste, non a caso, una ordinanza, la ordinanza Martini del marzo 2009, che pone dei doveri specifici. Questi doveri riguardano appunto la tenuta e la sorveglianza, usiamo i termini, il governo degli animali. Ad esempio, una piccola chicca, una piccola pillola, il guinzaglio non deve essere superiore a un metro e mezzo. C'è proprio questa norma. Qualora il guinzaglio sia superiore a un metro e mezzo, ricordatevi che avete violato l'ordinanza Martini, che è un'ordinanza che specifica un po' quali sono i doveri di chi tiene un cane con sé. Poi c'è un'altra normativa molto importante che concerne il microchip, i cani, a seguito dell'introduzione di questa carta, di questo riconoscimento dell'anagrafa e canina, devono essere registrati. Quindi, per avere il risarcimento è importante che il cane venga registrato. E non a caso, io ho qui con me proprio il documento di registrazione del piccolo Charlie. Di fronte a questi elementi, all'autopsia, questo è il documento dell'autopsia, di fronte alla fattura per le spese vive, di fronte al documento attinente al microchip, noi abbiamo tutti gli elementi utili e quindi, se dovesse succedere qualcosa di simile, ricordatevi che potete rivolgervi al vostro avvocato per ottenere il risarcimento e il ristoro del danno da morte di un cane di affezione. È un vostro diritto. E questo nel caso di un'aggressione ad un altro animale. Ricordiamoci che poi c'è magari più attenzione da porre anche nei riguardi di un possibile attacco verso gli esseri umani. Assolutamente. Proprio nel 2009 il sottoscritto ha perorato una causa. In quel caso difendevo, ahimè, che la professione dell'avvocato in certi casi è una professione che deontologicamente può riguardare non soltanto chi ha ragione, ma anche chi ha torto. Quindi l'avvocato difende anche i casi di questo genere. Qui, nel rispetto ovviamente deontologico, è il compito dell'avvocato, mi sono trovato in una condizione di dover difendere i proprietari di un immobile, una casa in campagna, perché nel 2009, sempre per lo stesso motivo, il cangello era rimasto aperto, c'era solo il chiavistello abbassato e questo povero uomo, come conosceva questi signori, aveva tentato di entrare nell'aia. Nel momento in cui ha aperto il cancello, due cani lo hanno aggredito, due cani di grossa taglia, c'è stato quindi, lui è scappato, insomma per fortuna non è deceduto, ma è stato ferito abbastanza gravemente, ne hanno parlato anche le televisioni nazionali, ed è stato da questo punto di vista un calvario per lui, che lui ha ovviamente giustamente denunciato l'accaduto, si stanno difendendo questi signori, però la difesa è una difesa cautelativa. Il sottoscritto ha sempre detto, e lo diranno anche altri, quando c'è un caso di questo genere e un cancello non viene chiuso a chiave, ma solo con il chiavistello, si è responsabili, non solo di responsabilità civile, ma si è responsabili penalmente proprio per aver causato lesioni personali colpose. La colpa, come imputazione soggettiva, cioè come addebito di responsabilità, consiste nell'imperizia di questi miei assistiti, i quali non dovevano lasciare il cancello chiuso solo con il chiavistello, ma dovevano chiuderlo con un lucchetto, solo in quel caso. Aggiungerei un'altra annotazione, perché la domanda è pertinente, ma mi consente di analizzare un caso che ho seguito personalmente. Non è sufficiente scrivere attenti al cane, oppure utilizzare il cosiddetto offendicula. Offendicula, in termine latino, si intende quegli strumenti di tutela della proprietà, che possono essere, ad esempio, sopra i muretti, mettere dei vetri. Allora, quando si mette su un muretto dei vetri, per impedire che un soggetto possa entrare, se quel soggetto malintenzionato, per esempio un ladro, si fa male mettendo le mani sul vetro, in quel caso noi non rispondiamo del reato di lesione, non rispondiamo perché quelle si chiamano offendicula. Ora, il cane rientra in quell'ambito, perché serve a tutelare la proprietà. Però, ripeto, massima attenzione, se il cane si trova in un recinto e il recinto è chiuso a chiave, non si risponde né penalmente né civilmente se una persona entra lì dentro e viene aggredita. Però, se il cancello è facilmente apribile, come in questo caso, lì sono rogne ed è giusto che paghino perché la tutela dell'utente della strada deve venire al primo posto nell'equiparazione, nel bilanciamento di interessi tra l'interesse di un soggetto ad avere un cane di affezione e l'interesse di un soggetto a non essere aggredito nella sua integrità psicofisica. Grazie, Avvocato. La prima parte di Chiede a noi termina qui. Torneremo nella seconda parte ancora con questioni legate al fisco, all'economia e alla famiglia. Carissimi amici di Padre Biotv, bentornati all'appuntamento settimanale dedicato al fisco e all'economia. Questa settimana torniamo a parlare di tassazione degli immobili e quindi di tasse sulla casa. Lo facciamo perché proprio qualche giorno fa è stato presentato nella commissione bilancio al Senato un importante emendamento alla manovra di bilancio 2020 che prevede dei controlli ed eventualmente anche delle sanzioni per quanto riguarda l'elusione della prima casa, per quanto riguarda la tassazione dell'Imu e della Tasi. In particolare sapete che già da qualche anno non si paga né l'Imu né la Tasi per quanto riguarda il numero familiare che risiede appunto nell'abitazione principale, quindi per la prima casa. Ma a condizione che non sia censita le categorie catastali A1, A8 e A9 ne abbiamo parlato già nelle scorse puntate le categorie catastali A1, A8 e A9 sono le abitazioni che appunto hanno un particolare pregio artistico ed architettonico quindi anche nel caso in cui queste abitazioni ricadono in queste categorie catastali allora in questo caso si pagherebbe anche se si tratta di abitazione principale. Bene, capita molto spesso che nello stesso nucleo familiare quando c'è la presenza di una seconda casa magari appunto per approfittare di questa agevolazione della prima casa un componente del nucleo familiare ha una residenza in un appartamento, in un immobile e magari nello stesso ambito familiare c'è un altro componente che risiede nella seconda casa, magari nella casa di villeggiatura. Ecco, molto spesso questo accade. che si verifichi per quanto riguarda una sorta di per cercare di non pagare la limo e la tasse per quanto riguarda l'abitazione principale quindi per usufruire di questa importante agevolazione. Bene, questo emendamento alla manovra di bilancio 2020 che ribadiamo è in questo momento all'esame della Commissione bilancio del Senato prevede delle sanzioni e quindi anche dei controlli da parte del Comune appunto per evitare che ci siano questi casi, questi furbetti che potrebbero usufruire di questa importante agevolazione in maniera fraudolenta. Torniamo quindi a parlare appunto di tassazione degli immobili e quindi facciamo una panorapica, una carrellata sulle più importanti tasse che appunto ricadrono nel bene più importante per i contribuenti italiani e quindi l'abitazione principale in questo caso. Sapete che le tasse più importanti sono l'Imo appunto, la tasse che è questa nuova tassa sui servizi indivisibili che è stata, che è entrata e ricoreggiata qualche anno e poi la famosa Tari, la tassa sui rifiuti di cui abbiamo parlato ampiamente nelle scorse puntate del nostro appuntamento settimane con il fisco. Per quanto riguarda l'Imo, sapete che è entrata in vigore già da parecchi anni è superentrata alla vecchia Ice ed è la tassa sulla proprietà per eccellenza per quanto riguarda la prima casa ma anche ovviamente tutti gli altri immobili che sono di proprietà del luogo familiare. Abbiamo già detto che appunto per quanto riguarda l'abitazione principale c'è l'esonoro dal pagamento quindi non c'è nessun obbligo per quanto riguarda il pagamento della prima casa però vige ancora il pagamento se appunto questi immobili ricate nelle categorie catastali come abbiamo detto A1, A8, A9. E per quanto riguarda invece la tasse questa è entrata in vigore già da qualche anno ma comunque in maniera più recente rispetto all'Imo riguarda la tassa sui servizi indivisibili. come per l'Imo la tasse anche è una tassazione che riguarda l'ambito comunale quindi viene regolamentato dal consiglio comunale del luogo dove esiste questo immobile e quindi con questi introiti il comune paga i servizi che sono appunto indivisibili quindi parliamo del servizio di illuminazione pubblica il servizio di manutenzione delle strade delle verdure pubbliche e tutti i servizi che appunto sono indivisibili per tutti i cittadini e per tutti i contribuenti. Come per la tasse è una tassa che si paga sulla proprietà e in una minima parte può essere pagata anche da chi utilizza quindi dagli inquilini. La liquida viene fessata come per l'Imo da ogni simbolo comune appunto viene regolamentata dal consiglio comunale e può cambiare annualmente. Per quanto riguarda le scadenze di queste due tasse sono fissate in due rate la prima quindi la conto il 16 di giugno il salve invece appena entro il 16 di dicembre. Per quanto riguarda una particolarità molto importante della tasse è appunto che il totale della tassazione sugli immobili comprensiva tra Imo e Tasi non può mai superare il 10,6 per mille quindi bisogna sempre verificare appunto la tassazione che è prevista dal comune dove c'è l'immobile quindi ogni anno è sempre bene consultare il sito internet istituzionale del comune dove appunto c'è l'immobile per verificare l'aliquota che è stata stabilita che è stata fissata e che appunto può cambiare annualmente. Passiamo alla tassa ulteriore per quanto riguarda gli immobili abbiamo già accennato nella scorsa puntata la tassa sui rifiuti e cerchiamo di ritornare sull'argomento anche perché tantissimi amici a casa ci hanno chiesto di verificare quali sono eventualmente dei casi di esenzione dal pagamento della tassa rifiuti quindi della TAVI. Per quanto riguarda la linea generale c'è da dire che la tassa sui rifiuti è stata entrata in vivore già nel lontano 1997 con un decreto legislativo molto importante il decreto legislativo 446 e ha stabilito che ci sono due tipi di utenze quindi che ovviamente fanno riferimento agli immobili ci sono le utenze domestiche e le utenze non domestiche in pratica dalla stessa parola si può capire di cosa stiamo parlando perché le utenze domestiche sono quelle dove risiede un nucleo familiare o per prima casa o per essere adibito anche o eventualmente a seconda casa le utenze domestiche sono tutte le altre utenze che appunto non riguardano la residenza di un nucleo familiare quindi parliamo di attività commerciale attività artiginali ma in molti casi anche attività industriali ovviamente la tassazione varia da comune a comune e varia a seconda si tratta di una utenza domestica da una utenza non domestica perché capite benissimo i rifiuti che vengono conferiti da utenze non domestiche sono dei rifiuti diversi da quelle conferite dalle singole persone che appunto risiedono in utenze domestiche per quanto riguarda appunto questo decreto registrativo che è entrato in migliori già nel lontano 1997 disciplina delle eventuali categorie di contribuenti che sono esentati o comunque hanno diritto a delle riduzioni di imposta e quindi per quanto riguarda la tassa di rifiuti per prima cosa le abitazioni con un unico occupante hanno diritto normalmente ad una notevole riduzione di imposta questo ovviamente cambia anche in questo caso da comune a comune perché come sapete la Tari come l'Imu e la Tasi sono tasse di natura comunale quindi ogni comune può disciplinare può regolamentare a sé la tassazione quindi le tariffe ma può anche cambiare regolamentare le fasce di contribuenti che hanno diritto ad esenzioni o addirittura a riduzione di imposta dicevamo le abitazioni con un unico occupante quindi normalmente le persone anziane che vivono da sole hanno diritto ad una riduzione che in molti casi può arrivare fino ad un terzo dell'imposta quindi fino al 33% ovviamente cambiando da comune a comune è importante verificare presso l'ufficio tributi se l'abitazione e il comune ha accontentato questo tipo di esenzione o riduzione di imposta poi sempre quel famoso decreto registrativo che ha istituito la Tassa di rifiuti miniatari prevede che tutte le abitazioni che sono tenute a disposizione per un determinato periodo dell'anno quindi che vengono occupate soltanto in maniera limitata nel tempo quindi mi riferisco ovviamente alle casse di villeggiature quindi che vengono usufruite vengono abitate soltanto per un periodo limitato durante l'anno per due o tre mesi allora anche questi immobili hanno diritto ad una riduzione di imposta ovviamente anche in questo caso il comune può regolamentare a sé quindi la tassazione e quindi può variare la tariffa per determinare l'aliquota per quanto riguarda le riduzioni di questo tipo di abitazioni che sono destinate ovviamente in maggior parte a villeggiature poi per tutti quegli abitanti che risiedono all'estero quindi i contribuenti che magari conservano la proprietà di un immobile ma per motivi di lavoro per motivi di studio sono costretti a risiedere per molti mesi all'anno all'estero allora per questi immobili che sono tenuti a disposizione quindi a condizione che ovviamente non siano dati in affitto non dati in allocazione allora per questi immobili e per questi residenti all'estero anche in questo caso c'è il diritto ad avere una riduzione dell'imposta che appunto viene determinata dal singolo comune poi per tutti i fabbricati rurali che siano comunque destinati ad un uso abitativo ecco anche in questo caso la legge istitutiva della Tari quindi la 446 del 1997 ha determinata in questo caso delle forti riduzioni dell'imposta poi una cosa molto importante che c'è da evidenziare anche questo c'è stato chiesto dai nostri amici a casa anzi invito sempre i nostri ascoltatori a scrivere e a mandarci le vostre domande i vostri quesiti noi saremo sempre felici di rispondere a tutti c'è da dire che appunto per quanto riguarda la superficie calpestabile quindi per quanto riguarda la tassazione dell'immobile l'osservatorio del mercato immobiliare ha determinato che appunto per quanto riguarda la tariffazione quindi la regolamentazione della tassa di più la superficie calpestabile è quella che appunto deve essere tassata dal comune e quindi è determinata da quella appunto che è calpestabile quindi a filo muro interno quindi dei muri perimetrali e quindi non sono dovuti per quanto riguarda i balconi o eventualmente i muri perimetrali quindi quando riguarda le aree scoperte ovviamente non c'è nessun obbligo del pagamento della tassa di più una cosa molto importante su cui vorrevo porre la vostra attenzione è la famosa dichiarazione a fine della tassa di più perché nel caso in cui durante l'anno ci siano state delle modifiche per esempio ci sia stato l'acquisto oppure la vendita di un immobile oppure c'è stata una variazione di locazione quindi una nuova casa quindi determina una nuova metratura dell'immobile oppure nel caso in cui ci siano delle modifiche per quanto riguarda il numero degli occupanti perché magari c'è qualche componente del nucleo familiare che viene appunto a far parte del nucleo familiare oppure c'è qualcuno che esce dal nucleo familiare quindi c'è una variazione del numero dei componenti e quindi capite benissimo che questo determina una variazione della tariffazione a fine della tassa di più ecco tutte queste modifiche devono essere sempre dichiarate al comune c'è un apposso di un modulo che può essere scaricato tranquillamente dal sito internet di ogni singolo comune italiano e per poter poi comunicare appunto attraverso questa dichiarazione il numero degli occupanti o eventualmente la variazione che c'è stata soprattutto per quanto riguarda un ampliamento eventualmente della metratura degli immobili perché capite che questi fattori sono determinanti a fine della tariffazione bene per oggi è tutto noi ci risiniamo la prossima settimana sempre con un nuovo argomento di pisco ed economia grazie alla prossima settimana grazie 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 grazie